Qui ai bordi del fiume Sacra Patria, il Piave, lo sentiamo murmurare ed è un murmurio che ti entra dentro, ti tocca l'anima, senza retorica, perché tanto non siamo nati né poeti né intellettuali, non abbiamo un senso, una dimensione della natura, delle cose che ci circondano e questo ti libera quello che hai dentro, è bello, è bello e basta.